E anche Edoardo è arrivato al traguardo dei quattro mesi. Come passa il tempo? Sta crescendo tantissimo. Auguri, auguri. Mi conoscivi, lo conoscivo, lo vi do, guarda, Reik. Ciao, 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 ciao. Vai. Tre, due, uno. Quattro mesi! No. Grazie al dia per la torta. Ciao, 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 ciao. Edoardo i primi quattro mesi li festeggia con la nonna paterna, con la felicità di mamma e papà. Ciao, ciao. 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 Ciao.